Buongiorno a tutti! Sto camminando in giro di Palermo, io e Kiki facendo i nostri affari e vedo che... Svegliati! State rovinando il vostro paese! Non importa perché io sono cittadinanza del mondo, posso andare a qualsiasi altro paese e vivere, però dentro il mio cuore batta ancora per Italia. Ho la speranza che voi cominciate a prendere un po' di coraggio, qualche palle e cominciate a fare qualche domanda logica a questo broma, a questo bidone di Covid. Ok? Alzaci! Ma vabbè...quante iniezioni devi fare? Quanto tempo devo girare senza respirare l'aria? Il respiro di Dio che Dio ti ha regalato per avere vita! Adesso mettete la maschera anche sui bambini! Ma siete pazzi italiani! Svegliatevi! Svegliatevi! State rovinando vostra salute! Facendo queste leggi illegali! Queste leggi non sono per il tuo benessere! Non è buono per il tuo benessere di camminare in giro senza respirare l'aria fresca! Senza uscire e stare dentro sotto il sole! Senza lavorare! Senza permettere il turismo di venire al vostro paese! Vostro paese che è dipendente al turismo per vivere! Perché hai una bella dolce vita! Avevo una volta prima che hai lasciato il governo mondiale ruvinare la vostra cosa! Io sono americana e ho visto questo succedere negli Stati Uniti! Lo so che pensi, Stati Uniti! Oh che favoloso! No mare mio! Tutto questo ha originato negli Stati Uniti! Io ho già scritto un libro con tanta ricerca di come è originato questo... Oh Dio! Questo virus! Venti anni prima! Anche questa ingezione che stai prendendo due, tre, quattro, cinque volte... Chissà il prossimo sarei dentro vostro culo! È tutto una broma di farti o morire o poi diventare... Perché queste cose che si fai dentro il tuo corpo non sono cose organiche! E tu sei una cosa organica! Dio ti ha creatato con una biologia incredibile! Incredibile! Che puoi superare qualsiasi cosa! Però non è una coincidente che chi in Italia ha messo toni di cinque G in giro di tutta Italia... E poi adesso Elon Musk, un altro americano inglese che vive a Washington... Stai facendo ogni giorno più costruzioni di Stati Uniti in giro di noi che facci male! Il salute! Ok? Tu devi cominciare a fare le cose bene per sopravvivere! Togliare le cose metalliche! Fai un bel detox! Risperare aria fresca! Uscire via di queste città di inferno, di morte, queste tombe! Cominciare a preservare la vostra bellissima terra! Il vostro bellissimo cibo che ancora Bill Gates, che stai provando, non ha creatato cibacce! Ha modificato genericamente cibo che mangiamo noi negli Stati Uniti come plastica! Ancora hai una terra con... Volcanico, ricco, ricco! Questa è la tua ricchezza! Capito? Non devi seguire questa strada che finisce in nessuna parte! E' scritto su una pietra, non lo so quanti mille anni vecchi, dei Hopi, americani, indiani, che... Ci sono due strade! Uno che prende tutta la gente, la maggior popolazione della gente, che finisce! Questa cammina finisce! Poi c'è quello che continua alla vita eternale, alla libertà, a un cammino in canto con Dio! E questo continua in giro di questa antica, preistorica rocca che ha scritto Iopi! Capito? Siamo dentro un tempo incredibile! C'è una guerra! E devi decidere in che parte farai! Continuare a portare avanti questa agenda satanica! Continuare a fare le iniezioni dentro i tuoi bambini, la tua famiglia, e dire, oh dai, fai questo per il benessere, per il mondo, per il benessere del mondo! No! Dio ti ha creatato un bellissimo corpo che puoi superare tutto se tu respira l'aria, mangia sano, mangia le cose della terra che Dio ti ha regalato, e poi non mettere queste cose artificiali dentro il tuo corpo! Ho visto il medico americano, Dr. Malconi, che ha creatato questo e ha detto non ti consiglio nessuno di fare! Nessuno di fare! Hai capito? Voi state guardando i televisioni, DJ, tell, bugia, lie, visione, ok? Stai guardando questo per tutte le tue informazioni! In inglese già ci sono un'altra strada, tutti noi stiamo facendo ricerche, però questo è tutto fermato qui in Italia! e voi siete diventati come Cina! Non puoi entrare una parola della verità! E io sto guardando che state facendo vostra, vostra distruzione, per carità, per amore di Dio! fermati! Cominci a usare quello che è rimasto dal tuo cervello! E fermati! Respirare l'aria! Non cominci a fare questo! Non seguire tutte queste ridicole, ridicole regole del lockdown! Che... 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 E poi stai andando dentro una società senza cantante, ok? Se continuo a partecipare a questo, tu sai che significa questo! Ok! Ciao! Hi Raleigh! Ciao a tutti!